La conferenza dei sindaci della costiera amalfitana ha chiesto al prefetto di Salerno, Francesco Russo, il suo intervento per apportare delle modifiche o prevedere delle deroghe all'ordinanza con la quale l'ANAS ha disposto la circolazione a partire dal 18 giugno a targhe alterne sulla strada statale 163 della costiera amalfitana. Prima di inviare la nota ufficiale è stato questa mattina il sindaco di Cetara Roberto Fortunato della Monica ad anticipare al prefetto di Salerno, Francesco Russo, le problematiche sollevate dai primi cittadini della costiera amalfitana alle prese con l'introduzione del nuovo dispositivo. Una misura secondo me è stata presa un po' con tanta superficialità, un po' da tutti, da tutti, in prima l'inizio da noi sindaci ma un po' da tutti, quindi perciò ho parlato con i prefetti che a breve arriveranno a nota dalla conferenza dei sindaci per cercare di porre dei correttivi delle cose, sto parlando solo delle auto e delle targhe alterne, invece le misure prese per i bus, per i camion e per le cose, quelle naturalmente resteranno in vigore. Il sindaco di Cetara ha partecipato in prefettura Salerno ad una riunione straordinaria del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza per approntare alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine le misure di sicurezza per la giornata del 29 giugno, quando Cetara celebrerà la festa di San Pietro e Paolo con la partecipazione di uno spettacolo pirotecnico affidato ad un artista di fame mondiale. Le decisioni che saranno prese nella prossima riunione ma informalmente sono queste, noi chiuderemo la costiera amalfitana al bivio di Raito e a mai ora alle 10 di sera e si apriranno poi la costiera dopo i fuochi d'artifici che saranno a mezzanotte. Quest'anno verrà il fuochisti che ha vinto il premio mondiale dei fuochi d'artifici, si chiama Freda Vagalluzzi da Palermo e saranno, dopo 3 anni di attesa, veramente vale la pena di vederli, saranno i fuochi d'artifici spettacolari. L'unico modo per venire a Cetara, come è fino al 2019, sono le vie del mare e invito tutte le persone che vogliono venire a Cetara, dalle 6 del pomeriggio fino alle 2 di notte, ogni 10 minuti, da Piazza della Concorde, ci sono le navette che i porteranno a Cetara. Quello è l'unico modo per venire a Cetara e nell'intera costiera amalfitana per il 29 giugno. A margine dell'incontro, come dicevamo, c'è stata dunque l'occasione di discutere anche delle problematiche sorte con l'ordinanza dell'ANAS, tra le richieste avanzate dai sindaci della costiera amalfitana, quella di includere i cittadini di Agerola al momento esclusi e permessi speciali per i lavoratori stagionali ed una serie di altre deroghe. Vedete delle modifiche dell'edergo, non solo per chi lavora, per chi ha la casa in costiera amalfitana ma non è residente, eccetera, eccetera. C'è tanto perché, diciamo, è una misura busoleta, è stata la prima volta 30 anni fa, mentre condivido le altre misure, perché è un provvedimento organico, per tendere l'arga alterna, per me è una misura che non condivido affatto, assolutamente, e farò di tutto per la mia parte, cercare di eliminarlo, oppure di derogare con molte deroghe, non solo per quelli che ha detto lei, ma per tante altre categorie. Grazie a tutti.